C'erano due partite da giocare da parte nostra, una partita tecnica che coinvolgeva in modo importante Cantù perché si giocava i play-off, apro una parentesi, complimenti a Cantù per il raggiungimento dei play-off. C'era una partita tecnica in cui era importante il risultato, molto per Cantù, zero per noi. E poi c'era un'altra partita, la partita così come ho detto in presentazione del senso professionale, del rispetto, dell'onore che ognuno di noi ha nel proprio nome e cognome, indipendentemente da quello che è il valore della partita stessa dal punto di vista sportivo. Abbiamo perso la prima, mi permetto di dire che abbiamo vinto la seconda perché credetemi non è semplice giocare con motivazioni zero se non si fa appello a quello che ho appena detto. Ho detto alla squadra prima della partita che non mi interessava vincere o perdere, mi interessava vincere la partita due. E credo che i giocatori per quasi tutti i 40 minuti abbiano raccolto questo invito, tanto che alla fine li ho ringraziati perché giocare contro una squadra di questo livello, intendo Cantù, tecnico, fisico, motivazionale, oggi sicuramente richiedeva tante risorse e credo che la squadra li abbia buttati dentro il campo.